Allora facciamo il salto qua, giriamo così, dobbiamo arrivare in pratica in questo modo all'arrivo Cioè è una cosa stranissima, cioè dobbiamo fare in pratica una cosa strana Penso se lo facciamo in partita si bugga sicuro, cioè ci superano tutti Però in teoria adesso andremo sul laser tracer e lo stambler sarà proprio buggatissimo E i laser non ci toccheranno, vediamo un po' se funziona Ecco, guardatevi, sono già a pagina in giù in pratica Attenzione, sono già in posizione, guardate qua raga Oddio sto per morire, sto per morire, aiuto, 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 aiuto E invece no, non muoio Ragazzi è una vittoria easy, è una vittoria facile, è un bug assurdo